E' ancora saldo il rapporto con Varoufakis, c'è ancora l'idea di un fronte unico? Devo dire la verità, assolutamente sì, dialogo, confronto, la volontà di lavorare insieme. Il nostro messaggio però è sempre stato quello di unire e non di dividere. Noi abbiamo un dialogo importante con Yannis, Varoufakis, così come abbiamo un dialogo importante con Melanchon, così come abbiamo un dialogo importante con Pablo Iglesias, con Ada Colau, con tutti questi ci stiamo sentendo, ci stiamo parlando, a breve faremo anche delle iniziative insieme, bisogna vedere se ci sono le condizioni poi per mettere in campo un processo politico che porti alla maggiore unità possibile a livello europeo. Questo presuppone un altro passaggio ancora preliminare, se ci sono le condizioni per un percorso politico unitario in Italia in vista delle europee e questo è uno dei temi principali delle discussioni che stiamo facendo in tema anche in questi giorni, compreso sabato mattina a Roma dove abbiamo avuto un incontro molto importante con tantissime realtà nazionali, quindi è un ragionamento che stiamo facendo proprio in questi giorni.